Sull'emergenza extracomunitaria a Caltanissetta, sulle problematiche connesse parla il vicario del questore Giuseppe Acciaro che fa il punto della situazione sull'impegno quotidiano della questura nissena con mezzi e servizi per fronteggiare situazioni spesso difficili come quella di venerdì sera. A Caltanissetta ormai da più di dieci anni gestiamo questo fenomeno, un tassello del fenomeno globale della immigrazione e abbiamo un grosso presidio che è fatto da addirittura tre centri. Il centro governativo per gli immigrati irregolari di Caltanissetta è costituito da un CARA, da un GID e da un CIE. Riguardo per esempio i richiedenti asilo, e ne abbiamo un corposo numero a Caltanissetta, lamentano che la commissione territoriale, la sezione di Caltanissetta, non riesce a smaltire con la tempistica da loro auspicata tutte le istanze che presentano per avere i colloqui e quindi poi capire con questo filtro della commissione se la loro richiesta di asilo politico può essere accettata o va invece respinta perché appunto ne mancano i presupposti oggettivi in base alla loro storia individuale. E' chiaro che più è l'afflusso degli extracomunitari che vengono con questo tipo di obiettivo maggiore è la differenza tra quello che può affrontare la commissione e il numero dei richiedenti che vogliono invece essere ascoltati. Ed è chiaro che da questo punto di vista, come dire, uno sforzo in più bisogna farlo perché i tempi non devono essere estremamente lunghi. Quello che posso dire è che noi, a differenza di altre località, abbiamo a Piantellago e quindi vicinissimo alla città un centro polifunzionale per immigrati e molto spesso la città non se ne avvede. Questo significa che comunque il sistema complessivo regge. Per quanto riguarda invece l'altro aspetto che noi abbiamo al centro polifunzionale di Piantellago bisogna dire due parole sul CIE che è il centro di identificazione e di espulsione così denominato poi dalla legge Bossifini, diciamo, del 2002. Ecco, lì abbiamo delle persone trattenute che non attendono, diciamo così, in gran parte l'esito o il colloquio con una commissione per chiedere asilo ma attendono un provvedimento espulsivo per i loro paesi di origine quindi sono pratiche burocratiche di tipo diverso. È chiaro che la loro principale ambizione è quella di darsi alla fuga e dovendo sviluppare delle strategie che consentono loro l'allontanamento dal CIE adottano anche una strategia che obiettivamente io ritengo molto grave e molto, come dire, pregna di negatività per quanto riguarda gli operatori di polizia e i militari che fanno servizio intorno a quella struttura perché loro adottano una strategia di introdurre un diversivo e questo diversivo per loro è fingere una rivolta, montare una rivolta e per fare questa rivolta distruggono quello che è possibilmente distruggibile, diciamo così, delle CIE e lo lanciano verso gli operatori di polizia quindi creando questa situazione, diciamo così, artatamente emergenziale approfittano poi, facendo anche delle piramidi umane per alzarsi lungo la palizzata metallica che è ben alta e scavalcarla nel tentativo di darsi alla fuga in questa fase è capitato, e io ho il dovere di dirlo che qualche poliziotto, che qualche carabiniere, che qualche militare qualche operatore di polizia, diciamo così in generale abbia avuto delle conseguenze negative perché per quanto uno si può, come dire, auto-vigilare e auto-proteggere una pietrata ci può sempre scappare però devo dire che è una situazione che diventa vi è più difficile noi abbiamo chiesto ulteriori rinforzi al Dipartimento della Pubblica Sicurezza e devo dire che per il mese di agosto ce li hanno promessi e dovremmo avere una condizione di operatività più ragguardevole